Abbiamo fatto una bella settimana tosta di allenamenti, adesso ci stiamo preparando per la partita contro il Lecce e vedo una squadra viva che vuole ottenere punti e sabato scenderemo in campo per ottenere il massimo. Ho trovato questo nuovo modulo per magari verticalizzare un po' di più e mi trovo molto bene anche perché abbiamo perso un giocatore lì davanti in più e quindi per noi è anche un po' più facile per noi attaccanti. Mi trovo bene con tutti, siamo lì davanti, siamo tutti ottimi attaccanti, puoi scegliere il mister che fa scendere in campo ma secondo me ci possiamo alternare bene tutti quanti insieme. a due pareggi è andato giù a Benevento, vinceva 3-0 poi con una rimonta strepitosa di Benevento si è fatta recuperare ma è una squadra che gioca bene, preparata, però noi ce la metteremo tutta per affrontarla e conquistare i tre punti. Come ti sembra la decisione del campionato a 19 squadre come l'avete presa all'interno No, non aspetta a noi, noi magari pensavamo che venivano intregate da squadra però hanno deciso così e va bene così. A Lecce è una bellissima piazza e siamo arrivati fino alla finale playoff, ha persa con il Frosinone, comunque ho ricordi bellissimi e è la prima volta che le affronto come avversari dopo quell'esperienza lì. La squadra è quando inizia a servire e l'obiettivo è la salvezza perché era serviti e non sai mai dove puoi arrivare, comunque abbiamo tanti tanti margini di miglioramento, abbiamo avuto magari un po' di difficoltà in questi due mesi perché ci sono 18 ragazzi, 19 ragazzi nuovi, quindi anche conoscerci e giocare insieme bisogna conoscere il rischio dei propri compagni. Comunque penso che dobbiamo trovare la marca giusta e continuare su questa strada giorno dopo giorno come stiamo facendo ogni settimana per lavorare sempre bene così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.